Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi un video in collaborazione con Happy Glam, un brand che nasce a Berlino e che crea smalti e semipermanenti completamente vegani, senza ingredienti tossici e ovviamente senza testare sugli animali. Questo brand mi ha contattato qualche tempo fa per spedirmi i loro prodotti. Ho ricevuto i prodotti di questo brand e adesso ve ne parlo. Allora, questo è come si presentano i loro semipermanenti. La boccetta è di vetro e il tappo è in legno e ognuno dei prodotti che ho ricevuto mi è arrivato all'interno di questa scatolina, dove appunto sono riportate le caratteristiche del brand, quindi vegano, che non testa sugli animali e che non contiene ingredienti tossici. Il set che ho scelto si chiama Plant Your World ed è un set di colori che richiama un po' la terra, la natura. E sono questi che vedete indossati. Quindi un nero, un color ghiaccio diciamo, un rosa scuro, un verdement a pistacchio diciamo e un bianco, anche se trovate gli stessi colori come smalti. Tra l'altro come bianco devo dire ottimo, perché è difficile trovare un bianco ideato bene. Questo non ha minimamente strisciate o segni proprio di pennellate. Poi ho ricevuto la base e il top coat e qualora siete impedite, come ci sono anche i numeretti, quindi per prima cosa la base. Numero 2, il colore. Ad esempio questo è un bellissimo rosso, il Super Power. E numero 3, il top coat. Quindi anche per chi non si è mai cimentato a farsi il semipermente in casa, può tranquillamente riuscirci. Poi ho ricevuto i cleaning pads che sono praticamente delle salviettine imbustate una ad una per andare a sgrassare l'unghia e rimuovere tutti i residui oleosi. Idem per queste che invece sono le salviettine per andare a rimuovere il semipermanente. Come durata è veramente ottima perché stiamo parlando di almeno 14 giorni con le mani perfette. E i colori sono veramente lucidi e brillanti. È la prima volta che io vado a mischiare così tanti colori. Io sono quella dal classico smalto monocolore in tutte le unghie. E invece questa selezione mi piace veramente tantissimo. Anche perché potrei abbinarla con mille cose. Ad esempio quest'anno sono in fissa con tutto ciò che è di questo colore, pistacchio menta, mi piace tantissimo. E questo è Still Growing. Inoltre l'azienda mi ha mandato la loro lampada. Che è contenuta qui dentro perché è piccolissima, portatile. Eccola qui. Questa è la loro lampada. Altra cosa che io ho adorato, il loro manuale delle istruzioni. Perché c'è semplicemente un codice da scansionare con la fotocamera. E avete un video tutorial che vi spiega passo passo come applicare il semi permanente in casa. L'idea è molto carina e si deduce di parecchio lo spreco. Non so se voi siete abituati a fare lo smalto semi permanente in casa. Io la trovo una cosa veramente comoda. Perché così uno può scegliere anche in base al proprio abbigliamento o agli accessori. E quando uno vuole sistemarsi un'unghia o vuole completamente cambiare il colore, non deve aspettare varie settimane. Uno se lo fa tranquillamente in casa. Vi cito alcuni degli ingredienti tossici che non sono contenuti all'interno di questi smalti, come formaldeide, toluene, DPB, xilene o camphora. Sul sito avete una gamma di colori molto molto ampia. E trovate sia i set, tipo questo che è da 5 colori, anche set da 2, sia di smalti che di smalti semi permanenti. Nel sito trovate anche gli accessori, come ad esempio lo spingi cuticole. Ho questo buffer che ho utilizzato per il mio semi permanente. Ho visto che c'è anche l'olio per cuticole. Diciamo che c'è proprio un'attenzione per i dettagli ed è molto molto completo come sito. Ma adesso vi faccio vedere step by step l'applicazione dei prodotti. Piccolo disclaimer, non sono bravissima, soprattutto con la sinistra. Ve lo dico prima di farvi vedere l'applicazione dei prodotti. Grazie a tutti. 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 Come vedete, se ci sono riuscita io ci può riuscire chiunque. Ho trovato appunto gli smalti molto facili da applicare. Il pennellino non è né troppo grande né troppo piccolo. Non restano le pennellate, non restano proprio il segno del pennello. I colori sono pieno di coloro. I colori sono pienissime dalla prima passata, anche se io cercavo proprio di darla più scarica possibile per dare due strati molto sottili di colore. Ma ripeto, per me questo è un grandissimo risultato. Vi lascio giù, vi lascio giù nell'info box il link del sito, ma anche il link di questo set nel caso siete interessati a questi colori. E in più l'azienda mi ha dato un codice sconto del 40% su tutto il loro sito, che vi lascio sia qui ma anche come sempre giù nell'info box. Fatemi sapere fra l'altro qual è il colore che preferite di questi. Sono molto contenta di avervi parlato di questo brand perché adoro il loro concept vegano, che non testa sugli animali. E la curata selezione di ingredienti non tossici per i loro prodotti. Veramente mi fa un sacco piacere supportare aziende di questo tipo. Io vi saluto e mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!